Buongiorno a tutti, siamo qui per parlarvi della nostra pelle, l'organo più pesante ed esteso del corpo. La pelle è costituita da una base di grasso che mantiene la temperatura corporea, poi c'è il derma che produce il sudore alle nuove cellule e infine l'epidermide che protegge gli altri strati. Pensate che ogni anno perdiamo un chilo di pelle, è tanto! Quando ci raffreddiamo, i vasi sanguini si allontanano dalla superficie della pelle. I nostri peli allora si alzano per trattenere il calore vicino all'epidermide. Quando ci riscaldiamo, i vasi si avvicinano alla superficie della pelle per trasmettere il calore al di fuori del corpo e sudiamo per abbassare la temperatura. E ora vi spieghiamo come mantenere la vostra pelle sana. Come potete vedere, la persona sulla sinistra sta mangiando un cibo poco sano e questo fa male alla nostra pelle. Invece, la persona sulla destra sta consumando un pasto sano con tanta verdura che contribuisce a mantenere la pelle sana. Sono così contenta di vedere che la persona a destra si è esposta al sole con un fattore alto di protezione. Oh, ma no! Quella sinistra sembra credere che il fattore di protezione non serva. Ci sarà da ridere tra un paio d'ore. Fate molta attenzione ai fattori di protezione che scegliete per la vostra pelle e accertatevi che contengano uno schermo sia ai raggi UVA che UVB. Una crema solare con schermo totale ci protegge sia dagli UVA che dagli UVB mentre altre creme che non hanno uno schermo totale proteggono sì dagli UVA ma non dagli UVB che danneggiano la nostra pelle. E non dimenticate, non basta la crema solare, seguite sempre queste istruzioni. Keep calm and keep your skin healthy! Sì! Sì!